Per collegarsi all'hotspot wifi della comunità della Vallagarina, si clicca in basso come indicato, seleziona TrentinoWiFi e quindi si clicca su connetti. Dopo un attimo si apre automaticamente il browser con la pagina di TrentinoWiFi. Correndo la pagina si clicca sul bottone Crea account. A questo punto chiederà se vengono inseriti i propri dati personali, l'email è quella dove poi si dovrà confermare la propria identità, il numero di telefono verrà utilizzato per inviare l'SMS con la password, mettere il baffetto come indicato e premere Crea account. A questo punto viene mostrata una procedura sul sito, basta seguirla. Le credenziali fornite devono essere utilizzate per accedere, come mostrato. L'esito positivo dell'operazione sarà dato dall'icona in basso a destra che cambia come mostrato a video. A questo punto si potrà navigare liberamente in internet. Dopo due ore per questioni legate alla sicurezza ve ne è chiesto nuovamente l'accesso.